Dopo la sconfitta all'esordio contro la nuova Escile, Sarrenia Live ritorna in campo alla ricerca dei primi tre punti in stagione contro i quattro muri, invece all'esordio in questa 7 Cup partono forti i quattro muri che dopo soli 120 secondi dall'inizio della gara trovano il vantaggio con questa conclusione della distanza di Porcedo, 1-0 per i quattro muri su Sarrenia Live il raddoppio pochi secondi più tardi, ancora Porcedo dalla distanza, incrocia con il mancino, 2-0 per i quattro muri inizio Roboante per i quattro muri che vanno ancora a segno, sempre con Porcedo, tripleta personale per lui e 3-0 pericolosissimi ancora i quattro muri, sempre con Porcedo, salva tutto Pudu Sarrenia Live prova la reazione, palla sui piedi di Graziano che allarga su De Luce, che stoppa, controlla, Campagnola, salva tutto poi reattivissimo il portiere in uscita su Graziano e su quest'ultimo tentativo le squadre vanno in riposo, quattro muri in vantaggio per 3-0 su Sarrenia Live parte bene il Sarrenia Live con questa conclusione di De Fenu, si salva Campagnola occasione clamorosa per Cudas, che con un ripallo va via ma davanti al portiere mette alto sopra la traversa al trentunesimo palla filtrante Pedeluce che controlla, perde la mira e con il destro non perde una palla alle spalle di Campagnola e 3-1 tra quattro muri e Sarrenia Live sul versante opposto Murgia scappa via in velocità, indisturbato, entra fino in area di rigore ma l'uscita decisiva di Pudu salva il Sarrenia Live al quarantacinquesimo il Sarrenia Live accorcia definitivamente le distanze rientranno ampiamente in partita con questa conclusione di Graziano che non lascia scampa Campagnola il buon momento per il Sarrenia Live è coronato al quarantasettesimo con il pareggio messo a segno da De Luce che davanti a Campagnola non sbaglia 3-3 per Sarrenia Live, rimonta completata contro i quattro muri e su questa palla allontanata dalla retroguardia arriva la fine della contesa Sarrenia Live completa la rimonta conquistando il primo punto in stagione i quattro muri dilapidano il vantaggio ottenuto nella prima frazione di gara Grazie a tutti